Salve a tutti, è da un sacco che non faccio video e per chi mi segue su Facebook lo sa ho avuto la febbre, ho perso la fotocamera che ho ritrovato per fortuna ma adesso sono qui per spezzare questo tempo d'attesa appunto questo è un mini tutorial su come ho fatto la foto che vedete nel video che è la mia attuale foto profilo di Facebook poiché molti di voi me l'hanno richiesta anche se è abbastanza una stupidaggine farla ma visto che ho fatto un video durante questi scatti ho deciso di farvelo vedere e anche di spiegare come ho fatto quindi buona visione e spero che il video vi piaccia ok io qua ho utilizzato il fondotinta 01 di Kiko potreste usare qualsiasi fondotinta 01 di qualsiasi marca anche perché non fa differenza basta che la pelle risulti più chiara di quello che è non c'è nulla ora basta che prendete una vecchia benda, stoffa e la posizionate sui vostri occhi e con un rossetto o qualsiasi altra cosa rossa marcate la posizione dei vostri occhi ok ora dovreste girare intorno alla vostra testa con la benda e marcare sempre di rosso i vostri occhi finché non finite tutta la benda ok la foto modificata risulta così quindi grazie a Dio che ha inventato Photoshop e niente al prossimo video, al prossimo tutorial spero che il video vi sia piaciuto ciao ciao ciao